Professionale stanno gestendo questo palo Grazie a tutti Grazie a tutti Arriva il caldo? E non lamentatevi che fa freddo Perché adesso il caldo c'è Come vedete Guardate, basta chiedere E il riscaldamento arriva in un attimo Comunque la fiamma in mezzo centrale c'è Bella alta E' un po' nascosta da culo ma c'è E la vedete?